Ciao, verrà un giorno in cui noi appassionati di guida sportiva riusciremo a coniugare la guida sportiva, quindi una sospensione rigida, con il comfort, la comodità, magari per portare in giro la famiglia. Verrà un giorno in cui questo eterno dilemma che non ci fa dormire la notte, troverà una risposta. Quel giorno è oggi. Vi voglio presentare il Kony Special Active. Questo ammortizzatore sportivo rappresenta da un punto di vista tecnologico assolutamente il top, il top di gamma dell'azienda Kony. È un ammortizzatore che io consiglierei non a chi vuole il massimo della rigidità, della sportività e a chi va in pista, ma a chi utilizza davvero l'auto tutti i giorni, magari la carica e ci trasporta la famiglia. Però non vuole rinunciare alla sportività. Perché la consiglierei a questa tipologia di appassionato? Perché è un ammortizzatore magico da un certo punto di vista. È un ammortizzatore regolabile e non regolabile allo stesso tempo. Nel senso che non dobbiamo starci noi a mettere mani, ma si regola automaticamente durante la marcia in ogni singolo istante. Come succede questo? Al suo interno, quindi qua dentro, non c'è una valvola idraulica, un flusso idraulico, ma ce ne sono due. Il secondo di questi si attiva solo se il manto stradale offre più sollecitazioni del dovuto. Ovvero, se la strada è disconnessa, se siamo in città, quindi tombini, dossi, avallamenti, l'ammortizzatore è molto molto comodo e confortevole. Più confortevole di quello di serie. Cioè, qui sta la cosa folle. Quando invece la strada lo consente, quindi siamo in curva, ad una certa velocità, su una strada comunque di qualità, e l'ammortizzatore chiude automaticamente questo secondo circuito idraulico, e lavora solo col primo che è tipicamente sportivo. Quindi è un ammortizzatore davvero rivoluzionario. Esiste da qualche anno, in realtà, solo che prima si chiamava FSD. Diciamo che la FSD è la prima generazione. Special Active è la seconda. È quella che io apprezzo, perché davvero è riuscita a centrare l'esigenza precisa di, insomma, di dover coniugare comfort e sportività. Quindi, se avete anche voi questa situazione e vi state, insomma, scervellando per cercare l'assetto giusto, o magari state decidendo assetto sì, assetto no, magari pronti a rinunciare, non dovete rinunciare. Valutate questo prodotto. E vorrei che mi facesse delle domande, perché davvero è un prodotto che offre tanti spunti. Quindi, se avete delle curiosità, chiedetemele pure. Cercherò di fare il mio meglio per rispondervi come si deve. Continuate a seguirci. Grazie, grazie. Ciao ragazzi, a presto.